ciao a tutti ben ritornati sul mio canale oggi vi faccio vedere la mia ultima scatola creativa quella arancione questi sono i pezzi iniziamo a montare ecco qui il negozio il negozio di fiori qualcosa non so comunque è un negozio questo qua si mette qui poi si mette questo e poi quest'altro poi si mette il verde sopra ecco qui poi si mettono uno poi un altro e un altro e un altro sempre uno ok serve un tubicino ecco il tubicino poi uno di questo quest'altro e questo smette questo poi si attacca a questo e diventa una cosa che c'è una cosa sopra non so cos'è questo eccolo mettiamo questo qua il piccolo qua e quest'altro qui poi si mette un altro sopra e poi quest'altro arancione ecco qui poi si mette la porticina questo il vetrino è già messo si deve mettere ma è già messo poi vediamo il pezzo piccolo dov'è non lo trovo ma dov'è non c'è non lo trovo non lo trovo non lo trovo non lo trovo il vetrino sta davanti non lo trovo ecco è già finito ci mancano solo poche pagine adesso l'otto è l'ultima la pagina otto è l'ultima vediamo due di questi uno e due che stanno qui ecco qui ecco qui il negozio ecco qui